good girls of five seconds of summer il disco bomba della scorsa settimana questa settimana in programmazione è stato promosso devo dire che mi piace più l'ascolto più mi entra nel mood a me piace il corretto di Irvine 9 e 22 minuti bambine, bambini, adulti, adulte è arrivato il momento di seguire un'altra fantastica puntata dell'Ape Maya maia e il ragno nero che bella giornata oggi finalmente sento il freddo maia a me si è ghiacciato tutto il pungiglione cosa ti piacerà di questo freddo? Willy! il freddo è apissimo rende tutto così tosto e forte e tu sai che io adoro le cose toste tosto, tosto, tosto oi 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 Maya sarà ma il freddo fa male a noi api guarda faccio la pipì a cubetti di ghiaccio cioè aria wow Willy ma è apissimo potremmo farci subito del mojito belli carichi e sballarci no no Maya calmati oddio oddio guarda chi c'è Filippo il ragno nero se ti taglia la strada porta sfiga ma Willy non crederai a certe stupidaggini è solo un ragno è bello grosso grossissimo Maya Maya attenta è pure il ragno più peloso del bosco peloso? hai detto peloso? io adoro le cose pelose eccola come il pelo il pelo il pelo il pelo il pelo ciao ragazzi a chi è che piace il pelo? a me a me a me a me piace che sia nuovo e setoso il pelo ma sì e allora avvicini di me che ti faccia vedere il pelo più lungo che tu abbia mai visto ti è sì che bello dov'è? 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 datemi il pelo dov'è? datemi il pelo datemelo fai attenzione Maya secondo me è un trabocchetto vuole attirarti nella sua rete vieni Maya vieni a petta curiosa bella vieni a toccare con mano io non tengo peli sulla lingua ma lo tengo qua wow ma questo sì che è un vero pelo peloso non finisce mai fischia hai visto? io non dico mai bugia diglielo al tuo amichetto cacassotto Willy Willy vieni a toccare anche tu è apissimo ma scusate ma questo è un pelo sullo stomaco eh certo e che ti pensavo ma io per questo mi chiamano il ragno nero io passerei le giornate a lisciarti il pelo liscia 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 va bene ma bu mo signorina Maya crede che abbiamo toccato abbastanza io tengo da fare no dai Filippo lasciami giocare ancora un po' così mi scaldo per benino che freddo no no mo basta comprati una stufa o scaldati col tuo amichetto io me ne devo andare me ne ha già io ma dove vai? io ho bisogno del tuo bel pellicciotto a me non piacciono quelli senza pelo quelli rasati signorina tu sei strana Maya vattene è molto e lascia me la fatti vedere da uno bravo su e là e taglielo dai vieni qui vattene ritami il pelo ritami il pelo ma c'è successo il marino ma che è un vento che mi ha abitato Maya Maya scusa dove vai? aiutami mi sono ghiacciato come un calippo cosa hai detto Willy? è un calippo Willy a me piace il calippo vieni Willy andiamo Gaia andiamo 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 che ti sciolgo tutto viva il calippo era un'altra fantastica puntata dell'ape Maya che poi i ragni per le api sono pericolosissimi è certo Maya è proprio intrepida coraggiosa il disco dei The Magician featuring the years and the years questa si chiama Sunlight se volete scoprire l'intera playlist verrà postata subito alla fine della puntata di A Qualcuno Piace Presto andate sulla nostra pagina di Facebook A Qualcuno Piace Presto e lì trovate i titoli di tutte le canzoni e a che e Grazie.